Venerdì 20 gennaio alle 16.30 in Viale Regina Margherita si terrà un sit-in davanti la Prefettura per chiedere uno stop immediato alle esecuzioni capitali in Iran. A sottoscrivere l'appello sono oltre 20 associazioni. All'iniziativa hanno aderito non solo rappresentanti del mondo dell'associazionismo, dei sindacati, della politica ed alcuni istituti scolastici, ma anche liberi cittadini che a quattro mesi dall'uccisione di Masamini continuano ad essere vicini ai giovani e alle giovani che protestano contro il regime degli Ayatollah. Venerdì saremo di nuovo in piazza a manifestare il nostro dissenso e la nostra indignazione nei confronti della feroce repressione messa in atto dal governo iraniano. A questo scopo, insieme a tante altre associazioni, ma anche tanti singoli cittadini e cittadine che hanno ritenuto di aderire a questa iniziativa, consegneremo nelle mani della Prefetta un appello indirizzato anche al sindaco, al presidente del Consiglio Comunale, per lo stop immediato alle esecuzioni capitali. Vorremmo che le nostre istituzioni locali si facessero portavoce nei confronti del governo nazionale della necessità di implementare gli sforzi per porre fine a questa angosciosa situazione. Noi siamo convinti che gli sforzi diplomatici e le sanzioni applicate fino a questo momento non abbiano raggiunto i risultati sperati, però siamo convinti che si può fare ancora qualcosa, che l'Occidente può fare qualcosa e soprattutto le Nazioni Unite possono fare qualcosa, perché contro la violazione dei diritti umani le Nazioni Unite possono e devono intervenire. Il documento sottoscritto è indirizzato ai rappresentanti delle istituzioni cittadine, al sindaco, al presidente del Consiglio Comunale e sarà consegnato al prefetto di Caltanissetta, Chiara Armenia. La richiesta è rivolta al mondo istituzionale locale perché si faccia portavoce al governo nazionale di intervenire diplomaticamente a livello internazionale per la tutela dei diritti umani in Iran e perché siano fermate le esecuzioni dei giovani manifestanti condannati a morte per avere protestato contro il regime dopo la morte di Masamini. Chi vorrà aderire potrà farlo il giorno del Sittin sia come associazione che da singolo cittadino.